Ed ora leggiamo il Libro dei Giudici, capitolo primo. Dopo la morte di Giosuè, i figliuoli di Israele consultarono l'Eterno dicendo, «Chi di noi salirà il primo contro i cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose, «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone suo fratello, «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte, e combatteremo contro i cananei. Poi anch'io andrò teco in quello che è toccato a te». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, e l'Eterno diede nelle loro mani i cananei, i feresei, e sconfissero a Besèk diecimila uomini. E trovato Adoni-Besèk, a Besèk, l'attaccarono, e sconfissero i cananei e i feresei. Adoni-Besèk si die alla fuga, ma essi lo inseguirono, lo presero, e gli tagliarono i pollici delle mani e dei piedi. E Adoni-Besèk disse, «Settanta re, a cui erano stati tagliati i pollici delle mani e dei piedi, raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, il Dio me lo rende». E lo menarono a Gerusalemme, dove morì. I figlioli di Giuda attaccarono Gerusalemme, la presero, passarono gli abitanti a fil di spada, e misero la città a fuoco e fiamme. Poi i figlioli di Giuda scessero a combattere contro i cananei che abitavano la contrada montuosa, il Mezzogiorno e la regione bassa. Giuda marciò contro i cananei che abitavano a Ebrom, il cui nome era prima Kiriat Arba, e sconfisse Sheshai, Aiman e Talmai. Di là marciò contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. E Caleb disse, «A chi batterà Kiriat Sefer e la prenderò? Io darò in moglie Axa, mia figliola». E la prese Otnier, il figliolo di Kenas, fratello minore di Caleb, e questi li die in moglie Axa, sua figliola. E quando ella venne a star con lui, lo persuase a chiedere un campo al padre di lei, e la scese di sull'asino, e Caleb le disse, «Che vuoi?». E quella rispose, «Fammi un dono, giacché tu mi hai data una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua». Ed egli le donò le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. I figlioli del Cheneo, suocero di Mosè, salirono dalle città dalle palme con i figlioli di Giuda, nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad, andarono, e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i cananei che abitavano in Zephath, distrussero interamente la città, che fu chiamata Hormah. Giuda, per sé anche Gaza col suo territorio, Ascalon col suo territorio, e Ekron col suo territorio. L'Eterno fu con Giuda, che cacciò gli abitanti della contrada montuosa, ma non poté cacciare gli abitanti della valle, perché avevano dei carri di ferro. E, come Mosè aveva detto, Ebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figlioli di Anak. I figlioli di Beniamino non cacciarono i Gebusei che abitavano in Gerusalemme, e i Gebusei hanno abitato con i figlioli di Beniamino in Gerusalemme fino al di Dogi. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Beto, e l'Eterno fu con loro. La casa di Giuseppe mandò ad esplorare Beto, città che prima si chiamava Lus. E gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città, e gli dissero, Deh, insegnaci la via per entrare in città, e noi ti tratteremo benignamente. Ed egli insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia, e quell'uomo andò nel paese degli Hittei, e vi edificò una città che chiamò Lus, nome che essa porta anche al di Dogi. Manasse, pure, non cacciò gli abitanti di Bet-sheam e delle città del suo territorio, né quelli di Tanak e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Imbleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio, essendo i cananei decisi a restare in quel paese. Però, quando Israele si fu rinforzato, assoggettò i cananei a servitù, ma non li cacciò del tutto. Efraim anch'esso non cacciò i cananei che abitavano a Gezer, e i caninei abitarono in Gezer in mezzo ad Efraim. E Zabulon non cacciò gli abitanti di Chitron e gli abitanti di Nathalol, i cannei abitarono in mezzo a Zabulon e furono soggetti a servitù. Asher non cacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab, di Akzib, e di Elba, e di Afik, e di Rehob, e i figlioli di Asher si stabilirono in mezzo a cananei che abitavano il paese perché non li scacciarono. Neftali non cacciò gli abitanti di Besh e Mesh, né gli abitanti di Betanath, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese, ma gli abitanti di Besh e Mesh e di Betanath furono da loro sottoposti a servitù. Gli amorei respinsero i figlioli di Dan nella contrada montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli amorei si mostrarono decisi a restare a Har-Eres e a Ayalon e a Shaal-Bim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su loro sì che furono soggetti a servitù. E il confine degli amorei si estendeva dalla salita di Akra-Bim, muovendo da Sela e su verso il nord. Giudici, capitolo secondo Orl'angelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bochim e disse, Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto, io non romperò mai il mio patto con voi, e voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce, e perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto, io non li caccerò dinanzi a voi, ma essi saranno per voi tanti nemici, e i loro dei vi saranno un'insidia. Appena l'angelo dell'Eterno ebbe detto queste parole a tutti i figlioli d'Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce, e posero nome a quel luogo Bochim, e vi offrirono dei sacrifici all'Eterno. Or Giosuè rimandò il popolo e i figlioli d'Israele, se ne andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese, e il popolo servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, e che avevano veduto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva fatto a pro di Israele. Poi Giosuè, il figliolo di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di centodieci anni, e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timat, e rest nella contrada montuosa di Efraim, al nord della montagna di Gash. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno nelle opere che aveva compiute a pro di Israele. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e servirono agli idoli di Baal, abbandonarono l'Eterno, l'iddio dei loro padri che li aveva tratti dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei fra gli dei dei popoli che li attornavano, e si prostrarono dinanzi a loro e provocarono ad ira all'Eterno, abbandonarono l'Eterno e servirono a Baal e agli idoli d'Astarte. E l'ira dell'Eterno s'accese contro Israele, ed è li dette in mano di predoni che li spogliarono, li vendè ai nemici che stavano loro intorno, in guisa che non poterono più tenere fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, a loro danno, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono oltre mondo angustiati. E l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, perché si prostituivano ad altri dei, e si prostravano dinanzi a loro, e abbandonarono ben presto la via battuta dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno, ma essi non fecero così. E quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché l'Eterno si pentiva a sentire i gemiti che mandavano a motivo di quelli che li opprimevano e li aggravavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a compromettersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli a prostrarsi dinanzi a loro, non rinunziavano menomamente alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse, «Giacché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non caccerò più dinanzi a loro alcuna delle nazioni che Gesù è lasciò quando morì. Così, per mezzo d'esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. E l'Eterno lascia stare quelle nazioni senza affrettarsi a cacciarle, e non le diede nelle mani di Gesù è». Giudici Capitolo Terzo Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'esse alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaam. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non aveva mai vista. I cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni, gli Ivei che abitavano la montagna del Libano dal monte Bal-Hermon fino all'ingresso di Yamat, queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele obbedirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figlioli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittei, agli Amorei, ai Feresei, agli Ivei, ai Gabusei, e sposarono le loro figliole, maritarono le proprie figliole coi loro figlioli, e servirono ai loro idei. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dimenticarono l'Eterno e il loro Dio, e servirono agli idoli di Baal e d'Astarte. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli li diede nelle mani di Cusha, Rishatahim, re di Mesopotamia, e i figlioli di Israele furono servi di Cush, Rishatahim, per otto anni. Poi i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Otnier, figliolo di Kenas, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito dell'Eterno fu sopra di lui, ed egli fu giudice di Israele, uscì a combattere, e l'Eterno gli diede nelle mani Cusha, Rishatahim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusha, Rishatahim, e il paese ebbe requie per quarant'anni. Poi, Otnier, figlio di Kenas, morì, e i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno rese forte, e Glom, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ed Eglom radunò intorno a sé i figlioli di Ammon e di Amelec, e andò a battere Israele e si impadronì delle città delle Palme, e i figlioli di Israele furono servi di Eglom, re di Moab, per diciotto anni. Ma i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, ed egli suscitò loro un liberatore, Ehud, figliolo di Ghera, beniaminita, che era mancino. I figlioli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglom, re di Moab. Ehud si fece una spada a due tagli, lunga un cubito, e se la scinse sotto la veste al fianco destro, e offrì il regalo a Eglom, re di Moab, che era uomo molto grasso. E quando ebbe finita la presentazione del regalo, rimandò la gente che aveva portato. Ma egli, giunto alla cava di pietre che è presso Gilgal, tornò indietro e disse, «O re, io ho qualcosa da dirti in segreto!» E il re disse, «Silenzio!» E tutti quelli che gli stavano da preso uscirono. Allora Ehud si accostò al re, che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo per prendervi il fresco, e gli disse, «Ho una parola da dirti da parte di Dio!» Questi si alzò dal suo seggio, e Ehud stessa la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco destro e la piantò nel ventre. Anche l'Elsa entrò dopo la lama e il grasso si richiusse attorno alla lama perché egli ritirò dal ventre la spada che gli usciva per il di dietro. Poi Ehud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise i chiavistelli. Or, quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse a chiavistello e dissero, «Certo egli fa i suoi bisogni nello stanzino della stanza fresca!» E tanto aspettarono che ne furono confusi, e come egli non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave e aprirono ed ecco che il loro Signore era stesso per terra, morto. Mentre si indugiavano, Ehud si diea alla fuga, passò oltre le cave di pietra e si mise in salvo in Seira. Arrivato che fu, suonò la tromba nella contrada montuosa di Efraim e i figlioli di Israele scessero con lui nella contrada montuosa, egli si mise alla loro testa e disse loro, «Seguitemi, perché l'Eterno vi ha dato nelle mani i maobiti, i vostri nemici!» E quelli scessero dietro a lui e si impadronirono dei guadi del Giordano per impedirne il passo ai maobiti e non lasciarono passare alcuno. E in quel tempo sconfissero circa diecimila maobiti, tutti robusti e valorosi, e non ne scampò uno. Così, in quel giorno, Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, e il paese ebbe requie però tanni. Dopo Ehud venne Shamgar, figliuolo di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei con un pignuolo da boi e anche egli liberò Israele. Giudici capitolo quarto Morto che fu Ehud, i figliuoli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno e l'Eterno li diede nelle mani di Jabin re di Canam che regnava a Azor. Il capo del suo esercito era Sisera che abitava a Oroshet Goim e i figliuoli di Israele gridarono all'Eterno perché Jabin aveva novecento carri di ferro e già da venti anni opprimeva con violenza i figliuoli di Israele. Or in quel tempo era giudice di Israele una profetessa Deborah moglie di Lipidot. Essa sedeva sotto la palma di Deborah fra Rama e Beto nella contrada montuosa di Efraim e i figliuoli di Israele salivano a lei per farsi rendere giustizia. Ora ella mandò a chiamare Barak figliuolo da Bio Noam a Cades di Neftali e gli disse L'Eterno lì Dio di Israele non t'ha egli dato quest'ordine va raduna sul monte Tabor e prenditeco diecimila uomini dei figliuoli di Neftali e dei figliuoli di Zabulon e io attirerò verso di te al torrente chi si sarà capo dell'esercito di Iabinco e suoi carri e la sua numerosa gente e io le darò nelle tue mani Barak le rispose se vieni meco andrò ma se non vieni meco non andrò ed ella disse certamente verrò con te soltanto la via per cui ti metti non ridonderà ad onor tuo poiché l'eterno darà Cisera in man d'una donna e Deborah si levò e andò con Barak a Cades e Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades diecimila uomini si misero al suo seguito e Deborah salì con lui or Heber il Canneo s'era separato dai Cenei discendenti di Obab suocero di Mosè e aveva piantato le sue tende fino al querceto di Zannaim che è presso a Cades fu riferito a Cisera che Barak figliolo da Binoam era salito sul monte Tabor e Cisera radunò tutti i suoi carri novecento carri di ferro e tutta la gente che era seco da Oro Sheth Goim fino al torrente Chisom e Deborah disse a Barak levati perché questo è il giorno in cui l'Eterno ha dato Cisera nelle tue mani l'Eterno non va egli dinanzi a te allora Barak scese dal monte Tabor seguito da diecimila uomini e l'Eterno mise in rotta davanti a Barak Cisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito che fu passato a fil di spada e Cisera sceso dal carro si dè alla fuga a piedi ma Barak inseguì i carri dell'esercito fino a Oro Sheth Goim e tutto l'esercito di Cisera cadde sotto i colpi della spada e non ne scampò un uomo Cisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael moglie di Eber il Caneo perché vera pace fra Iabin re di Azzor e la casa di Eber il Caneo e Jael uscì incontro a Cisera e gli disse entra signor mio entra da me non temere ed egli entrò da lei nella sua tenda ed essa lo coprì come una coperta ed egli le disse dè dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete e quella aperto l'otre del latte gli diede da bere e lo coprì ed egli le disse statene all'ingresso della tenda e se qualcuno viene a interrogarti dicendo c'è qualcuno qui dentro di di no allora Jael moglie di Eber presi un piuolo dalla tenda e dato di piglio al martello venne pian piano a lui e gli piantò il piuolo nella tempia sì che esso penetrò in terra egli era profondamente addormentato e sfinito e morì ed ecco che come Barak inseguiva Cisera Jael uscì ad incontrarlo e gli disse vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi ed egli entrò da lei ed ecco Cisera era stesso morto col piuolo nella tempia così i Dio umiliò quel giorno i Abin re di Canam dinnanzi ai figlioli di Israele e la mano dei figlioli di Israele s'andò sempre più aggravando su Iabin re di Canam finché ebbe sterminato Iabin re di Canam Giudici capitolo quinto in quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak figliolo da Binoam perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele perché il popolo si è mostrato volenteroso benedite l'Eterno ascoltate o re porgete orecchio o principi all'Eterno sì io canterò salmeggerò all'Eterno all'Idio di Israele o Eterno quando uscisti da Seir quando venisti dai campi di Edom la terra tremò ed anche i cieli si sciolsero come le nubi si sciolsero in acqua i monti furono scossi per la presenza dell'Eterno anche il Sinai là fu scosso dinanzi all'Eterno all'Idio di Israele ai giorni di Shamgar il figliolo di Amat ai giorni di Yahel le strade erano abbandonate e i viandanti seguivano sentieri tortuosi i capi mancavano in Israele mancavano finché non sorsi io Deborah finché non sorsi io come una madre in Israele si sceglievano dei nuovi dèi e la guerra era alle porte si scorgeva forse uno scudo una lancia fra quarantamila uomini di Israele il mio cuore va ai condottieri di Israele o voi che vofriste volenterosi fra il popolo benedite l'Eterno voi che montate asine bianche voi che sedete su ricchi tappeti e voi che camminate per le vie cantate lungi dalle grida degli arcieri là tra le abbeveratoi si celebrano gli atti di giustizia dell'Eterno gli atti di giustizia dei suoi capi in Israele allora il popolo dell'Eterno discese alle porte destati destati o Deborah destati destati sciogli un canto levati o Barak e prendi i tuoi prigionieri o figlio da Binoam allora scese un residuo alla voce dei nobili scese un popolo l'Eterno scese con me fra i prodi da Ephraim vennero quelli che stanno sul monte di Amalek al suo seguito venne Beniamino fra le tue genti di Makir scesero dei capi da Zabulon quelli che portano il bastone del comando i principi di Isakar furono con Deborah quale fu Barak tale fu Isakar si slanciò nella valle sulle orme di lui presso i rivi di Ruben grandi furono le risoluzioni del cuore perché sei tu rimasto fra gli ovigli ad ascoltare il flauto dei pastori presso i rivi di Ruben grandi furono le deliberazioni del cuore Galahad non ha lasciato la sua dimora di là dal Giordano e Dan perché si è tenuto sulle sue navi Asher è rimasto presso il lido del mare e si è riposato nei suoi porti Zabulon è un popolo che ha esposto la sua vita alla morte e Neftali anche egli sulle alture della campagna i re vennero pugnarono allora pugnarono i re di Canaan a Tanakh presso le acque di Megiddo non ne riporto un prezzo d'argento dai cieli si combattè gli astri nel loro corso combatteron contro Sisera il torrente di Chison li travolse l'antico torrente il torrente di Chison anima mia avanti con forza allora gli zoccoli dei cavalli martellavano il suolo al galoppo al galoppo del loro guerriere in fuga maledite Meroth dice l'angelo dell'Eterno maledite maledite i suoi abitanti perché non vennero in soccorso dell'Eterno in soccorso dell'Eterno assieme coi prodi benedetta sia fra le donne Yahel moglie di Eber il Cheneo fra le donne che stanno sotto le tende sia ella benedetta egli chiese dell'acqua ed ella gli dè del latte in una coppa d'onore gli offerte della crema con una mano di Edipiglio al piuolo e con la destra al martello degli operai colpì Sisera gli spaccò la testa gli fracassò gli trapassò le tempie ai piedi d'essa e si piegò cadde giacque disteso ai piedi d'essa si piegò e cadde laddove si piegò cadde esamine la madre di Sisera guarda per la finestra e grida attraverso l'inferriata perché il suo carro sta tanto a venire perché sono così lenti le ruote dei suoi carri le piussavie delle dame le rispondono ed è la pur replica a se stessa non trova un bottino non se lo dividono una fanciulla due fanciulle per ognuno a Sisera un bottino di vesti variopinte un bottino di vesti variopinte ricamate di vesti variopinte e ricamate da amboilati per le spalle del vincitore così periscano tutti i tuoi nemici o eterno e quelli che tavano sia come il sole quando si leva in tutta la sua forza ed il paese bereque per quarant'anni giudici capitolo sesto or i figlioli di Israele fescero ciò che è male agli occhi dell'eterno e l'eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni la mano di Madian fu potente contro Israele e per la paura dei Madianiti i figlioli di Israele si fecero delle caverne che sono nei monti e delle spelonche e dei forti quando Israele aveva seminato i Madianiti con gli amalechiti e i figlioli dell'Oriente salivano contro di lui s'accampavano contro gli israeliti distruggevano tutti i prodotti del paese fino verso Gaza e non lasciavano in Israele né viveri né pecore né buoi né asini poiché salivano con i loro greggi con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di locuste essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo Israele dunque fu ridotto in gran miseria a motivo di Madian e i figlioli di Israele gridarono all'Eterno e avvenne che quando i figlioli di Israele ebbero gridato all'Eterno a motivo di Madian l'Eterno mandò ai figlioli di Israele un profeta che disse loro così dice l'Eterno lì Dio di Israele io vi feci salire dall'Egitto e vi trassi dalla casa di schiavitù e vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano li cacciai dinanzi a voi vi detti il loro paese e vi dissi io sono l'Eterno il vostro Dio non adorate gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate ma voi non avete dato ascolto alla mia voce poi venne l'angelo dell'Eterno e si assisse sotto il terebinto d'Ofra che apparteneve ad Ioas a Biezzerita e a Gedeone figliuolo di Ioas e batteva il grano nello strettoio per metterlo al sicuro dai Madianiti l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse l'Eterno è teco o uomo forte e valoroso e Gedeone gli rispose ahimè signor mio se l'Eterno è con noi perché ci avviene tutto questo e dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo l'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian allora l'Eterno si volse a lui e gli disse va con cotesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madian e non sono io che ti mando ed egli a lui ah signor mio con che salverò io Israele ecco il mio migliaio è il più povero di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre e l'Eterno gli disse perché io sarò teco tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo e Gedeone a lui se ho trovato grazie agli occhi tuoi dammi un segno che sei proprio tu che mi parli dè non ti ne andar di qui prima che io torni da te e ti recchi la mia offerta e te la metta dinanzi e l'Eterno disse aspetterò finché tu ritorni allora Gedeone entrò in casa preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce a zime mise la carne in un canestro e il brodo in una pentola li portò tutto sotto il terebinto e gliele offrì e l'angelo di Dio gli disse prendi la carne e le focacce a zime mettile su questa roccia e versati su il brodo ed egli fece così allora l'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce a zime e salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce a zime e l'angelo dell'Eterno scomparve dalla vista di lui e Gedeone vide che era l'angelo dell'Eterno e disse misero me o Signore o Eterno già che ho veduto l'angelo dell'Eterno a faccia a faccia e l'Eterno gli disse stai in pace non temere non morrai e allora Gedeone edificò quivi un altare all'Eterno e lo chiamò l'Eterno pace esso esiste anche al di d'oggi a offra degli abbiezeriti e in quella stessa notte l'Eterno gli disse prendi il giovenco di tuo padre il secondo toro di sette anni demolisci l'altare di Ba che è di tuo padre abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare all'Eterno al tuo Dio in cima a questa roccia disponendo ogni cosa con ordine poi prendi il secondo toro e offri l'unolo casto sulle legna dell'idolo che avrai abbattuto allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori e fece come l'Eterno gli aveva detto ma non osando farlo di giorno per paura della cassa di suo padre e della gente della città lo fece di notte e quando la gente della città l'indomani mattina si levò ecco che l'altare di Baal era stato demolito e che l'idolo posto via canto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito e dissero l'un l'altro chi ha fatto questo ed essendosi informati e avendo fatto delle ricerche fu loro detto Gedeone figliuolo di Ioas ha fatto questo allora la gente della città disse a Ioas mena fuori il tuo figliuolo e si è messo a morte perché ha demolito l'altare di Baal ed ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino e Ioas rispose a tutti quelli che insorgevano contro a lui volete voi difendere la causa di Baal volete venirli in soccorso chi vorrà difendere la sua casa sarà messo a morte prima di domattina se esso è Dio difenda da sé la sua causa giacché hanno demolito il suo altare perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Yerubba Baal perché si disse difenda Baal la sua causa contro a lui giacché egli ha demolito il suo altare or tutti i Marianiti gli Amalekiti e i figlioli dell'Oriente si radunarono presso a Giordano e si accamparono nella valle di Israel ma lo spirito dell'Eterno si impossessò di Gedeone il quale suonò la tromba e gli abizzeriti furono convocati per seguirlo egli mandò anche dei messi a tutto menasse che fu pure convocato per seguirlo mandò altresì dei messi nelle tribù di Asher di Zabulon di Neftali le quali salirono ad incontrare gli altri e Gedeone disse a Dio se vuoi salvare Israele per mia mano come hai detto ecco io metterò un vello di lana sull'aia se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto io conoscerò che tu salverai Israele per la mia mano come hai detto e così avvenne la mattina dopo Gedeone si levò per tempo strizzò il vello e ne spremì la rugiada una coppa piena d'acqua e Gedeone disse a Dio non s'accenda l'iratua contro di me io non parlerò più che questa volta dè che io faccia ancora un'altra prova sola col vello resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno e Dio fece così quella notte e il vello restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno Giudici capitolo settimo Yerubabal dunque o vale a dire Gedeone con tutta la gente che era con lui levatosi la mattina di buon'ora si accampò presso la sorgente di Harod il campo di Madiam era al nord di quello di Gedeone verso la collina di More nella valle e l'Eterno disse a Gedeone la gente che è Teco è troppa numerosa per chi odia Madia nelle sue mani Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire la mia mano è quella che m'ha salvato or dunque fa proclamare questo sì che il popolo loda chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galahad e tornarono indietro ventiduemila uomini del popolo e ne rimasero diecimila e l'Eterno disse a Gedeone la gente è ancora troppo numerosa falla scendere all'acqua e qui vi te ne darò la scelta quello del quale ti derò questo va da Teco andrà Teco e quello del quale ti derò questo non va da Teco non andrà Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e l'Eterno gli disse tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua come la lambisce i cane li porrai da parte così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio e il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di trecento uomini tutto il resto della gente si mise in ginocchio per beve l'acqua allora l'Eterno disse a Gedeone mediante questi trecento uomini che hanno lambito l'acqua io vi libererò e darò i madianiti nelle tue mani tutto il resto della gente se ne vada ognuno a casa sua i trecento pressero i viveri del popolo e le sue trombe e Gedeone rimandati tutti gli altri uomini di Israele ciascuno alla sua tenda ritenne questi con sé ora il campo di Madiam era sotto quello di lui nella valle in quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone levati piomba sul campo perché io te l'ho dato nelle mani ma se hai paura di farlo scendivi con purà tuo servo e udrai quello che dicono e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombar sul campo egli dunque escese con pura suo servo fino agli avamposti del campo ora i Madianiti gli Amalecchiti e tutti i figlioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste e i loro cammelli erano innumerevoli come l'arena che è sul lido del mare e come Gedeone vi giunse ecco che un uomo raccontava un sogno al suo compagno e gli diceva io ho fatto un sogno mi pareva che un pan tondo d'orso rotolasse nel campo di Madian giungesse alla tenda la investisse in modo da farla cadere da rovesciarla da lasciarla atterrata e il suo compagno gli rispose e gli disse questo non è altro che la spada di Gedeone figliuolo di Gioas uomo di Israele nelle sue mani Dio ha dato Madian e tutto il campo quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione adorò il Dio poi tornò nel campo di Israele e dissi levatevi perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian e divise i trecento uomini in tre schiere consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole entro le brocche e disse loro guardate me e fate come farò io quando sarà giunto all'estremità del campo come farò io così farete voi e quando io con tutti quelli che sommeco sonerò la tromba anche voi darete nelle trombe intorno a tutto il campo e direte per l'Eterno e per Gedeone Gedeone e i trecento uomini che erano con lui giunsero all'estremità del campo al principio della vigilia di mezzanotte nel mentre che si era appena data la muta alle sentinelle sonarono le trombe spezzarono le brocche che tenevano in mano allora le tre schiere dettero nelle trombe spezzarono le brocche con la sinistra presero le fiaccole con la destra le trombe per suonare e si misero a gridare la spada per l'Eterno e per Gedeone ed ognuno di loro rimase al suo posto intorno al campo e tutto il campo si dì a correre a gridare a fuggire e mentre quelli suonavano le trecento trombe l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto il campo e il campo fuggì fino a Be-Shitat verso Cessera fino all'orlo di Ab-Meolat presso Tabat gli israeliti di Neftali di Asher e tutto menasse si radunarono e inseguirono i malianiti e Gedeone mandò dei messi per tutta la contrada montuosa di Efraim a dire scendete contro i malianiti e tagliate loro il passo delle acque fino a Bet-Barath e ai guadi del Giordano così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dai passi delle acque fino a Bet-Barath e ai guadi del Giordano e presero due principi di Madiam Oreb e Zeb uccisero Oreb al masso di Oreb e Zeb allo strettoio di Zeb inseguirono i malianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeb a Gedeone dall'altro lato del Giordano Giudici Capitolo Ottavo Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone che azione è questa che tu ci hai fatto non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madiam ed ebbero con lui una disputa violenta ed egli rispose loro che ho fatto io al paragon di voi la racimolatura di Efraim non vale essa più della vendemmia da Bieser e Dio va dato nelle mani i principi di Madiam Oreb e Zeb che dunque ho potuto far io al paragon di voi quando egli ebbe loro detto questa parola la loro ira contro di lui si calmò e Gedeone arrivò a Giordano e lo passò con i trecento uomini che erano con lui i quali benché stanchi continuavano a inseguire il nemico e disse a quelli di Sukkot datevi prego dei pani alla gente che mi segue perché è stanca e io sto inseguendo Zeba e Zalumna re di Madiam ma i capi di Sukkot risposero tieni tu forse già nelle tue mani i polsi di Zeba e di Zalumna che abbiamo a dar del pane al tuo esercito e Gedeone disse ebbene quando l'Eterno mi avrà dato nelle mani Zeba e Zalumna io vi lascerò delle carni con delle spine nel deserto e con dei triboli di là salì a Penuel e parlò a quei di Penuel nello stesso modo ed essi gli risposero come avevano fatto quelli di Sukkot ed egli disse anche a quelli di Penuel quando tornerò in pace abbatterò questa torre Orzeba e Zalumna erano a Cargor con loro esercito di circa quindici mila uomini che era tutto quel che rimaneva dell'intero esercito dei figlioli dell'Oriente perché centoventimila uomini che portavano spada erano stati uccisi Gedeone salì per la via di quelli che abitavano sotto le tende a Oriente di Noba e a Iogbeba e sconfisse l'esercito che si credeva sicuro e Zeba e Zalumna si diedero alla fuga ma egli li inseguì preso i due re di Madiam Zeba e Zalumna e sbaragliò tutto l'esercito poi Gedeone figliuolo di Joas tornò dalla battaglia per la salita di Eres mise le mani sopra un giovane dell'agente di Sukkot e lo interrogò ed egli die per iscritto i nomi dei capi degli anziani di Sukkot che erano settantasette uomini poi poi venne alla gente di Sukkot e disse ecco Zeba e Zalumna a proposito del quale mi insultaste dicendo hai tu forse già nelle mani i polsi di Zeba di Zalumna che noi abbiamo da far del pane e da darlo alla tua gente stanca e prese gli anziani della città e con delle spine del deserto e con dei triboli castigò gli uomini di Sukkot e abbatté la torre di Penuel e uccise la gente della città poi disse a Zeba e a Zalumna come erano gli uomini che avete uccisi al Tabor quelli rispose erano come te ognuno d'essi aveva l'aspetto di un figlio di re ed egli rispose erano miei fratelli figliuori di mia madre com'è vero che l'Eterno vive se aveste risparmiato la loro vita io non vi ucciderei poi disse agli Eter suo primogenito levati e uccideli ma il giovane non tirò la spada perché aveva paura essendo ancora un giovinetto e Zeba e Zalumna dissero levati tu stesso e dacci il corpo mortale poiché qual è l'uomo tal è la sua forza e Gedeone si levò e uccise Zeba e Zalumna e prese le mezzalune con i loro cammelli che portavano al collo allora gli uomini d'Israele dissero a Gedeone regna su noi tu e tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo già che ci hai salvato dalla mano di Madiam ma Gedeone rispose loro io non regnerò su voi nel mio figliuolo regnerà su voi l'Eterno è quelli che regnerà su voi poi Gedeone disse loro una cosa voglio chiedervi che ciascun di voi mi dia gli anelli del suo bottino i nemici avevano degli anelli d'oro che erano Ismailiti e quelli risposero li daremo volentieri e stesso un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino il peso degli anelli d'oro che gli aveva chiesto fu di mille settecento sicli d'oro oltre le mezzalune i pendenti e le vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso e oltre i colladi che i loro cammelli avevano al collo e Gedeone ne fece un efod che pose in ofra sua città tutto Israele vandò a prostituirsi ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa così Madian fu umiliato davanti ai figlioli di Israele e non si alzò più il capo e il paese ebbe reque per quarant'anni durante la vita di Gedeone Gli rubabal figliolo di Ioas tornò a dimorare a casa sua or Gedeone ebbe settanta figlioli che gli nacquero dalle molte mogli che gli ebbe e la sua concubina che stava a Sichem gli partorì anch'ella un figliolo al quale posse nome Abimelech poi Gedeone figliolo di Ioas morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Ioas suo padre a offra degli abizzeriti dopo che Gedeone fu morto i figlioli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro dio i figlioli di Israele non si ricordavano dell'eterno del loro dio che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici di ogni intorno e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Ierubabal ossia di Gedeone per tutto il bene che gli aveva fatto a Israele Abimelech figliolo di Ierubabal andò a Sichen dai fratelli di sua madre e parlò loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre dicendo De dite ai Sichen in modo che tutti odano qualcosa è migliore per voi che settanta uomini tutti i figlioli di Ierubabal regnano su voi oppure che regni su voi uno solo e ricordatevi ancora che io sono vostre ossa e vostra carne i fratelli di sua madre parlarono di lui ripetendo a tutti i sicchie miti tutte quelle parole e il cuor loro s'inchinò a favore di Abimelech perché dissero è nostro fratello e gli diedero settanta sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit con i quali Abimelech assoldò degli uomini da nulla e audaci che lo seguirono ed egli venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli figlioli di Ierubabal settanta uomini ma Iotan figliolo minore di Ierubabal scapò perché s'era nascosto poi tutti i sicchimiti e tutta la casa di millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia del monumento che si trova a Sicem e Iotam essendo stato informato della cosa andò a porsi sulla sommità del monte Garazin e alzando la voce gridò ascoltatemi sicchimiti e vi ascolti Dio un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su loro e dissero all'ulivo regna tu su noi ma l'ulivo rispose rinunzierei io al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi allora gli alberi dissero al fico vieni tu a regnare su noi ma il fico rispose loro rinunzierei io alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi poi gli alberi dissero alla vite vieni tu a regnare su noi ma la vite rispose loro rinunzierei io al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi allora tutti gli alberi dissero al pruno vieni tu a regnare su noi e il pruno rispose agli alberi se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su voi venite a rifugiarvi sotto l'ombra mia se no esca un fuoco dal pruno e di voi i cetri del libano ed ora se voi vi siete condotti con fedeltà e con integrità proclamando re Abimelech se avete escito bene verso Yerubbaal e la sua casa se avete ricompensato lui mio padre di quel che ha fatto per voi quando ha combattuto per voi quando ha messo a repentaglio la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madiam mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre e avete ucciso i suoi figlioli i settanta uomini sopra una stessa pietra e avete proclamato re dei sicchimiti Abimelech figliolo della sua serva perché è vostro fratello se dico avete oggi agito con fedeltà e con integrità verso Yerubbaal e la sua casa godetevi Abimelech e Abimelech si goda di voi se no esca da Abimelech un fuoco che di vori sicchimiti e la casa di Milo ed esca dai sicchimiti e dalla casa di Milo un fuoco che di vori Abimelech poi Iotam corse via fuggì e andò a stare a ber per paura di Abimelech suo fratello e Abimelech signoreggiò sopra Israele tre anni poi il Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i sicchimiti e i sicchimiti ruppero fede ad Abimelech affinché la violenza fatta ai settanta figlioli di Yerubbaal ricevesse il suo castigo e il loro sangue ricadesse sopra Abimelech loro fratello che li aveva uccisi e sopra i sicchimiti che gli avevano prestato mano a uccidere i suoi fratelli i sicchimiti posero in agguato contro di lui sulla cima dei monti della gente che svaliciava sulla strada chiunque le passasse vicino e Abimelech fu informato della cosa poi Gal figliolo di Ebed e i suoi fratelli vennero e si stabilirono a Sichen e i sicchimiti risposero in lui la loro fiducia e usciti alla campagna vendemmiarono le loro vigne pestarono le uve e fecero festa poi entrarono nella casa del loro dio mangiarono bevero e maledissero Abimelech e Gal figliolo di Ebed disse chi è Abimelech e che cos'è Sichen che abbiamo a servire ad Abimelech non è egli il figliolo di Jerubal e Zebul non è egli il suo commissario servite agli uomini di Amor padre di Sichen ma noi perché serviamo a costui ah se avessi in potere mio questo popolo io caccerei Abimelech poi disse ad Abimelech rinforza il tuo esercito e fatti avanti orse Bul governatore della città aveva udito le parole di Gal figliolo di Ebed e s'accese d'ira e mandò segretamente dei messi ad Abimelech per dirgli ecco Gal figliolo di Ebed e i suoi fratelli sono venuti a Sichen e sollevano la città contro di te or dunque levati di notte con la gente che è Teco e fa un'imboscata nella campagna e domattina non appena spunterai il sole ti leverai e piomberai sulla città e quando Gal con la gente che è con lui uscirà contro di te tu gli farai quel che sarà necessario Abimelech e tutta la gente che era con lui si levarono di notte e fecero un'imboscata contro a Sichen divisi in quattro schiere intanto Gal figliolo di Ebed uscì e si fermò all'ingresso della porta della città e Abimelech uscì dall'imboscata con la gente che era con lui Gal veduta quella gente disse a Zebul ecco gente che scende dall'alto dei monti e Zebul gli rispose tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini e Gal li prese a dire guarda c'è gente che scende dalle alture del paese e una schiera che giunge per la via della guercia degli indovini allora Zebul gli disse dov'è ora la tua millanteria di quando dicevi chi è Abimelech che abbiamo a servirli non è questo il popolo che disprezzavi orsù fatti avanti e combatti contro di lui allora Gal uscì alla testa dei Sichemiti e die battaglia ad Abimelech Bahamimbelech gli diede la caccia ed egli fuggì dinanzi a lui e molti uomini caddero morti fino all'ingresso della porta e Abimelech si fermò ad Arruma e Zebul cacciò Gal e i suoi fratelli che non poterono più rimanere a Sichem il giorno seguente il popolo di Sichem uscì alla campagna e Abimelech ne fu informato e gli prese allora la sua gente la divisa in tre schiere e fece un'imboscata nei campi e quando vide che il popolo usciva dalla città gli si levò contro e ne fece strage poi Abimelech e la gente che aveva seco si slanciarono e vennero a porsi all'ingresso della porta della città mentre le altre due schiere si gettarono su tutti quelli che erano nella campagna e ne fecero strage e Abimelech attaccò la città tutto quel giorno e la prese e uccise il popolo che vi si trovava poi spianò la città e vi seminò del sale tutti gli abitanti della torre di Sichem all'udire questo si ritirarono nel torrione del tempo di Elberit e fu riferito ad Abimelech e tutti gli abitanti della torre di Sichem si erano adunati qui vi allora Abimelech salì sul monte Salmon con tutta la gente che era con lui diedi piglio a una scure tagliò un ramo d'albero lo sollevò e se lo mise sulla spalla poi disse alla gente che era con lui quel che mi avete veduto fare fatelo presto anche voi e tutti tagliarono quindi anch'essi dei rami ognuno il suo e seguirono Abimelech posero i rami contro il torrione e alzero il torrione con quelli che verono dentro così perì tutta la gente della torre di Sichem circa mille persone fra uomini e donne poi Abimelech tornò a Tebez la cinse d'assedio e la prese ora in mezzo alla città c'era una forte torre dove si rifugiavano tutti gli abitanti della città uomini e donne e si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre Abimelech giunto alla torre l'attaccò e si accostò alla porta della torre per appiccarvi il fuoco ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio ed egli chiamotosto il giovane che gli portava le armi e gli disse tira fuori la spada e uccidemi affinché non si dica l'ha ammazzato una donna e il suo giovane allora lo trafisse ed egli morì e quando gli israeliti ebbero veduto che Abimelech era morto se ne andarono ognuno a casa sua così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre uccidendo settanta suoi fratelli e Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che si aveva fatto e su loro si compie la maledizione di Iotam figliolo di Erubal Giudici Capitolo Decimo Or dopo Abimelech sorse per liberare Israele Tola figliolo di Pua figliolo di Dodo uomo di Sakar dimorava a Samir nella contrada montuosa di Efraim fu giudice di Israele per ventitré anni poi morì e fu sepolto a Samir dopo di lui sorse Yair il Galadita che fu giudice di Israele per ventidue anni ebbe trenta figlioli che cavalcavano trenta asinelli e avevano trenta città che si chiamano anche oggi i borghi di Yair e sono nel paese di Galad poi Yair morì e fu sepolto a Camon e i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono gli idoli di Baal e di Astarte gli dèi della Siria agli dèi di Sidon agli dèi di Moab agli dèi dei figlioli di Amon agli dèi dei filistei e abbandonarono l'Eterno che non gli servirono più l'ira dell'Eterno s'accese contro Israele ed egli li die nelle mani dei filistei e nelle mani dei figlioli di Amon e in quell'anno questi angariarono ed oppressero i figlioli di Israele per diciotto anni oppressero tutti i figlioli di Israele che erano al di là del Giordano nel paese degli Amorei e in Galahad e i figlioli di Amon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda e contro Beniamino e contro la casa d'Efraim e Israele fu in grande angustia allora i figlioli di Israele gridarono all'Eterno dicendo abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito agli idoli di Baal e l'Eterno disse ai figlioli di Israele non vi ho io liberati dagli Egiziani dagli Amorei da figlioli di Amon e dai Filistei quando i Sidoni gli Amalekiti e i Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me non vi liberai io dalle loro mani eppure mi avete abbandonato e avete servito ad altri dei perciò io non vi libererò più andate a gridare agli dei che avete scelto vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia e i figlioli di Israele dissero all'Eterno abbiamo peccato facci tutto quello che a te piace soltanto te ne preghiamo liberaci oggi allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono all'Eterno che si accorò per l'afflizione di Israele i figlioli di Amon si adunarono e si accamparono in Galahad e i figlioli di Israele si adunarono e si accamparono a Mizpah il popolo i principi di Galahad si dissero l'uno all'altro chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figlioli di Amon quelli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galahad Giudici capitolo undicesimo ora Yefte il Galadita era un uomo forte e valoroso figliolo di una meretrice e aveva Galahad per padre la moglie di Galahad gli aveva dato dei figlioli e quando questi figlioli della moglie furono grandi cacciarono Yefte e gli dissero tu non avrai eredità in casa di nostro padre perché sei figliolo di un'altra donna e Yefte se ne fuggì lungi dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob degli uomini da nulla si raccorsero intorno a Yefte e facevano delle incursioni con lui qualche tempo dopo avvenne che figlioli di Amon mossero guerra a Israele e come i figlioli di Amon muovevano guerra a Israele gli anziani di Galahad andarono a cercare Yefte nel paese di Tob e dissero a Yefte vieni sii nostro capitano e combatteremo contro i figlioli di Amon ma Yefte rispose agli abitanti di Galahad non m'avete voi odiato e cacciato dalla casa di mio padre perché venite da me ora che siete nell'angustia e gli anziani di Galahad dissero a Yefte appunto per questo torniamo ora da te onde tu venga con noi e combatta contro i figlioli di Amon e tu sia capo di noi tutti gli abitanti di Galahad Yefte rispose agli anziani di Galahad se mi riconduscete da voi per combattere contro i figlioli di Amon e l'Eterno ridà il mio potere io sarò vostro capo e gli anziani di Galahad dissero a Yefte l'Eterno sia testimone tra noi e ci punisca se non facciamo quello che hai detto Yefte dunque andò con gli anziani a Galahad il popolo lo costituì suo capo e condottiero e Yefte ripeté davanti all'Eterno a Mizpah tutte le parole che aveva detto prima poi Yefte inviò dei messi al re dei figlioli di Amon per dirgli che questione c'è fra me e te che tu venga contro di me per far guerra al mio paese e il re dei figlioli di Amon rispose ai messi di Yefte mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese dall'Armon fino allo Yabok e al Giordano rendimelo all'amichevole Yefte inviò di nuovo dei messi al re dei figlioli di Amon per dirgli così dice Yefte Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese dei figlioli di Amon ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades inviò dei messi al re di Edom per dirgli ti prego lasciami passare per il tuo paese ma il re di Edom non ha consentì mandò anche al re di Moab il quale pure rifiutò e Israele rimase a Cades poi camminò per il deserto fece il giro del paese di Edom del paese di Moab giunse ad oriente del paese di Moab e si accampò di là dall'Armon senza entrare nel territorio di Moab perché l'Armon segna il confine di Moab e Israele inviò dei messi a Sihon re degli Amorei re di Eshbon e gli fè dire ti preghiamo lasciaci passare dal tuo paese per arrivare al nostro ma Sihon non si fidò di Israele per permettergli di passare per il suo territorio anzi Sihon radunò tutta la sua gente e si accampò agli Ataz e combatté contro Israele e l'Eterno l'Idio di Israele diede Sihon e tutta la sua gente nelle mani di Israele che li sconfisse così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella contrada conquistò tutto il territorio degli Amorei dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano ed ora che l'Eterno l'Idio di Israele ha cacciato gli Amorei dinanzi a Israele e che è il suo popolo dovresti tu possedere il loro paese non possiedi tu quello che Chemosh il tuo Dio ti ha fatto possedere così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha cacciati dinanzi a noi sei tu forse da più di Balak vigliolo di Zippor re di Moab mosse egli querela di Israele o gli fece egli guerra sono trecent'anni che Israele abita a Eshbon e nelle città del suo territorio a Roer e nelle città del suo territorio e in tutte le città lungo l'Arnon perché non gliele avete tolte durante questo tempo io non ti ho offeso e tu agisci male verso di me muovendomi guerra l'Eterno il giudice giudichi oggi tra i figlioli di Israele e i figlioli di Amon ma il re dei figlioli di Amon non diede ascolto alle parole di Jefte che gli aveva fatto dire allora lo spirito dell'Eterno venne su Jefte che attraversò Galat e menasse e passò a Mizpah di Gala e da Mizpah di Galat mosse contro i figlioli di Amon Jefte fece un voto all'Eterno e disse se tu mi dai nelle mani i figlioli di Amon la persona che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figlioli di Amon sarà dell'Eterno io lo offrirò in olocausto e Jefte marciò contro i figlioli di Amon per far loro guerra e l'Eterno glieli diede nelle mani ed egli inflisse loro una grandissima sconfitta da Aroer fino verso Minit prendendo loro venti città e fino a Abed Keriamim così i figlioli di Amon furono umiliati dinnanzi ai figlioli di Israele or Jefte se ne tornò a Mitzpah a casa sua ed ecco uscì l'incontro la sua figliola con timpani e danze era l'unica sua figlia non aveva altri figli né altre figliole e come la vide si stracciò le vesti e disse ah figlia mia tu mi accasci tu mi accasci tu sei fra quelli che mi conturbano poiché io ho dato parola all'Eterno e non posso ritrarmene e la gli disse padre mio se hai dato parola all'Eterno fa di me secondo quel che hai proferito già che l'Eterno ti ha dato di far vendetta dei figlioli di Amon tuoi nemici poi disse a suo padre mi sia concesso questo lasciami libera per due mesi ond'io vada e scenda per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne ed egli le rispose va e la lascia andare per due mesi ed ella se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità alla fine dei due mesi e la tornò da suo padre ed egli feci di lei quello che aveva promesso con voto ella non aveva conosciuto uomo di qui venne in Israele l'usanza che le figliole di Israele vanno tutti gli anni a celebrare la figliola di Efte il gala di Ità per quattro giorni Giudici capitolo dodicesimo or gli uomini di Efraim si radunarono passarono a Zaffon e dissero a Efte perché sei andato a combattere contro i figlioli di Amon e non ci hai chiamati ad andare Teco noi bruceremo la tua casa e te con essa Efte rispose loro io e il mio popolo abbiamo avuto gran contesa con i figlioli di Amon e quando v'ho chiamati in aiuto non mi avete liberato dalle loro mani e vedendo che voi non venivate in mio soccorso ho posto a repentaglio la mia vita ho marciato contro i figlioli di Amon e l'Eterno me li ha dati nelle mani perché dunque siete saliti oggi contro di me per muovermi guerra poi efte radunati tutti gli uomini di Gala die battaglia ad Efraim e gli uomini di Gala confissero gli Eframiti perché questi dicevano voi Galaditi siete dei fuggiaschi d'Efraim in mezzo d'Efraim e in mezzo menace e i Galaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efraimiti e quando uno dei fuggiaschi d'Efraim diceva lasciatemi passare gli uomini di Gala gli chiedevano sei tu un Efraimita se quello rispondeva no i Galaditi gli dicevano ebbene di Sibolet e quello diceva Sibolet senza fare attenzione a pronunziare bene allora lo pigliavano e lo scannavano presso i guadi del Giordano e perirono in quel tempo 42.000 uomini di Efraim Iefte fu giudice di Israele per sei anni poi Iefte il Galadita morì e fu sepolto in una delle città di Galad dopo di lui fu giudice di Israele Ibsan di Bethlehem che ebbe trenta figlioli maritò fuori trenta figliole e condusse di fuori trenta fanciulle per i tuoi figlioli fu giudice di Israele per sette anni poi Ibsan morì e fu sepolto a Bethlehem dopo di lui fu giudice di Israele Elom lo Zabulonita fu giudice di Israele per dieci anni e poi Elom lo Zabulonita morì e fu sepolto a Yalon nel paese di Zabulon e dopo di lui fu giudice di Israele Abdon figliolo di Hillel il Piratonita ebbe quaranta figlioli e trenta nipoti i quali cavalcarono settanta sinelli fu giudice di Israele per otto anni poi Abdon figliolo di Hillel il Piratonita morì e fu sepolto e piratò nel paese di Efraim sul monte Amalek giudici capitolo tredicesimo e i figlioli di Israele continuarono a fare quel che era male agli occhi dell'Eterno e l'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per quarant'anni or vera un uomo di Zorea della famiglia dei Daniti per nome di Manoa sua moglie era sterile e non aveva figlioli e l'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e le disse ecco tu sei sterile e non hai figlioli ma concepirai e partorerai un figliolo ordunque guardati bene dal bere vino o bevanda alcolica e dal mangiare alcun che d'impuro poiché ecco tu concepirai e partorerai un figliolo sulla testa del quale non passerà rasoio giacché il figliolo sarà un asireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei la donna andò a dire a suo marito un uomo di Dio è venuto da me aveva un sembiante di un angelo di Dio un sembiante terribile fuori di modo io non gli ho domandato donde fosse ed egli non mi ha detto il suo nome ma mi ha detto ecco tu concepirai e partorerai un figliolo ordunque non bere vino né bevanda alcolica e non mangiare alcuna che di impuro giacché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte allora Manoa supplicò l'Eterno e disse oh Signore ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quelli che dobbiamo fare per il bambino che nascerà e Dio esaudì la preghiera di Manoa e l'angelo di Dio tornò ancora alla donna che stava sedendo nel campo ma Manoa suo marito non era con lei e la donna corse in fretta ad informare suo marito del fatto e gli disse ecco quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparito Manoa si alzò andò dietro a sua moglie e giunto a quell'uomo gli disse sei tu che parlasti a questa donna e quelli rispose son io e Manoa quando la tua parola si sarà verificata qual norma avrà da seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui e l'angelo dell'eterno disse a Manoa si astenga la donna da tutto quello che le ho detto non mangi di alcun prodotto della vigna né beva vino o bevanda alcolica e non mangi alcunché di impuro osservi tutto quello che le ho comandato e Manoa disse all'angelo dell'eterno dè permetteci di trattenerti e di prepararti un capretto e l'angelo dell'eterno rispose a Manoa anche se tu mi trattenessi non mangerei del tuo cibo ma se vuoi fare un olocausto offrilo all'eterno or Manoa non sapeva che quel che fosse l'angelo dell'eterno poi Manoa disse all'angelo dell'eterno qual è il tuo nome affinché ad impiute che siano le tue parole noi ti rendiamo onore e l'angelo e l'angelo dell'eterno gli rispose perché mi chiedi il mio nome esso è meraviglioso e Manoa prese il capretto e l'oblazione e le offrì all'eterno sul sasso allora avvenne una cosa prodigiosa mentre Manoa sua moglie stavano guardando come la fiamma saliva dall'altare al cielo l'angelo dell'eterno salì con la fiamma dell'altare e Manoa e sua moglie vedendo questo caddero con la faccia a terra e l'angelo dell'eterno non apparve più né a Manoa né a sua moglie allora Manoa riconobbe che quello era l'angelo dell'eterno e Manoa disse a sua moglie noi morremo sicuramente perché abbiamo veduto Dio ma sua moglie gli disse se l'eterno avesse voluto farsi morire non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto dire proprio ora le sue cose come queste poi la donna partorì un figliuolo a cui pose nome Sansone il bambino crebbe e l'eterno lo benedisse e il suo spirito cominciò ad agitarlo quando esso era a Mananeddan fra Zorea e Estaol Giudici capitolo quattordicesimo Sansone scese a Tinna e vide quivi una donna fra le figliuole dei filistei tornato a casa ne parlò a suo padre e a sua madre dicendo ho veduto a Tinna una donna tra le figliuole dei filistei ordunque prendetimela per moglie suo padre e sua madre gli dissero non vè egli dunque fra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te che tu vada a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi e Sansone rispose a suo padre prendimi quella perché mi piace o suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dall'Eterno poiché Sansone cercava che i filistei gli fornissero un'occasione di contesa in quel tempo i filistei dominavano Israele poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Tinna e come furono giunti alle vigne di Tinna ecco un leoncello fargli sincontro ruggendo lo spirito dell'Eterno investì Sansone che senza aver niente in mano squarciò il leone come uno squarcerebbe un capretto ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto e scese parlò alla donna e questa gli piacque di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere il carcame del leone ed ecco nel corpo del leone c'erano sciame d'api e del miele egli prese in mano di quel miele e si mise a mangiarlo per strada e quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre ne diede loro ed essi ne mangiarono ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo dal leone suo padre scese a trovare quella donna e Sansone fece qui un convito perché tale era il costume dei giovani non appena i parenti della sposa videro Sansone invitarono trenta compagni perché stessero con lui Sansone disse loro io vi proporrò un'enimma se voi me lo spiegate entro i sette giorni del convito e se lo indovinate vi darò trenta tuniche e trenta mute di vesti ma se non lo potete spiegare darete trenta tuniche e trenta mute di vesti a me e quegli gli risposero proponi il tuo enigma e noi l'udremo ed egli disse loro dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito del dolce per tre giorni quelli non poterono spiegarle l'enimma e il settimo giorno dissero alla moglie di Sansone induci il tuo marito a spiegarci l'enimma se no dare un fuoco a te e alla casa di tuo padre e che ci avete invitati qui per spogliarci la moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli tu non hai per me che dell'odio e non mi vuoi bene hai proposto un enimma ai figlioli del mio popolo e non me lo hai spiegato ed egli a lei ecco non te l'ho spiegato a mio padre né a mia madre e lo spiegherei ora io a te ed ella pianse presso di lui durante i sette giorni che durava il convito e il settimo giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava ed essa spiegò l'enimma ai figlioli del suo popolo e agli uomini della città e il settimo giorno prima che tramontasse il sole disse la Sansone che v'è più di dolce del miele e che v'è più forte del leone ed egli rispose loro se non aveste arato con la mia giovenca non avreste indovinato il mio enigma e lo spirito dell'Eterno lo investì ed egli scese d'Ascalon e vi uccise trenta uomini di loro prese le loro spoglie e dette le mute di vestiti a quelli che avevano spiegato l'enigma e a Cesodira risalì a casa di suo padre ma la moglie di Sansone fu data al compagno di lui che si era scelto per amico giudici capitolo quindicesimo di lì a qualche tempo verso la metitura del grano Sansone andò a visitare sua moglie le portò un capretto e disse voglio entrare in camera da mia moglie ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse io credevo sicuramente che tu l'avresti presa in odio e però l'ho data al tuo compagno e sua sorella minore non è più bella di lei prenditi dunque quella in sua vece Sansone rispose loro questa volta non avrà colpa verso i filistei quando farò loro del male e Sansone se ne andò e acchiappò trecento sciacalli prese pure delle fiaccole volse coda contro coda e mise una fiacola in mezzo fra le due code poi accese le fiaccole dette la via gli sciacalli per i campi di grano dei falistei e bruciò i covoni ammassati il grano tuttora in piedi e perfino gli oliveti e i filistei chiesero chi ha fatto questo e fu risposto Sansone il genero del Tibneo perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui e i filistei salirono e diedero alle fiamme lei e suo padre e Sansone disse loro già che agite a questo modo siate certi che non avrò posa finché non mi sia vendicato di voi e li sbaragliò interamente facendone un gran macello poi scese e si ritirò in una caverna nella roccia di Etam allora i filistei salirono e si accamparono in Giuda e si distessero fino a Lehi e gli uomini di Giuda dissero loro perché siete saliti contro di noi quelli risposero siamo saliti per legare e Sansone per fare a lui quello che ha fatto a noi e tre mila uomini di Giuda scessero alla caverna della roccia di Etam e dissero a Sansone non sai tu che i filistei sono nostri dominatori che è dunque questo che ci hai fatto ed egli rispose loro quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro e quelli a lui noi siamo discesi per legarti e darti nelle mani dei filistei Sansone replicò loro giuratemi che voi stessi ne omiciderete quelli risposero no ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani ma certamente non ti metteremo a morte e lo legarono con due funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna e quando giunse a lei e i filistei gli si fecero incontro con grida di gioia ma lo spirito dell'Eterno lo investì e le funi che aveva le braccia di venero come filo di lino a cui si appena appiccichi il fuoco e i legami gli caddero dalle mani e trovata una mascella d'asino ancora fresca stese la mano la ferrò e uccise con essa mille uomini e Sansone disse con una mascella d'asino un mucchio due mucchi con una mascella d'asino ho ucciso mille uomini quando ebbe finito di parlare getto via di mano la mascella e chiamò quel luogo Ramatlei poi ebbe gran sete e invocò l'Eterno dicendo tu hai concesso questa gran liberazione per mano del tuo servo e ora dovrò io morire di sete e cadere nelle mani degli incirconcisi allora Dio fendè la roccia concava che è a lei e ne uscì dell'acqua Sansone beve il suo spirito si ranimò ed egli riprese vita don del nome di Acaroc dato a quella fonte che esiste ancora al di d'oggi a lei Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per vent'anni Giudici capitolo sedicesimo e Sansone andò a Gaza vide qui una meretrice e dentro da lei fu detto a quei di Gaza Sansone è venuto qua ed essi lo circondarono stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte se ne stettero quieti dicendo allo spuntar del giorno l'uccideremo e Sansone si giacque fino a mezzanotte e a mezzanotte si levò di adipiglio ai battenti della porta della città e ai due stipiti li diversi assieme con la sbarra e se le mise sulle spalle li portò in cima al monte che è di rimpetto a Ebrom e dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Delila e i principi dei filistei salirono da lei e le dissero lusingalo e vedi dove risieda quella sua gran forza e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo e ti daremo ciascuno mille e cento sicri d'argento Delila dunque disse a Sansone dimmi ti prego dove risiede la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti Sansone le rispose se mi si legasse con sette corde d'arco fresche non ancora secche io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque allora i principi dei filistei le portarono sette corde d'arco fresche non ancora secche ed ella lo legò con esse or c'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna ed ella disse Sansone i filistei ti sono addosso ed egli ruppe le corde come si rompe un fil di stop quando sente il fuoco così il segreto della sua forza restò sconosciuto poi Dali la disse a Sansone ecco tu mai beffata e mai detto delle bugie ordunque ti prego dimmi con che ti si potrebbe legare ed egli le rispose se mi si legasse con fune nuove che non fossero ancora state adoperate io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque Dali la prese dunque delle fune nuove lo legò e gli disse Sansone i filistei ti sono addosso l'agguato era posto nella camera interna ed egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia Dali la disse a Sansone fino ad ora tu mai beffata e mai detto delle bugie dimmi con che ti si potrebbe legare ed egli le rispose non avresti che da tessere le sette trecce del mio capo con il tuo ordito ed essa le fissò al subio poi gli disse Sansone i filistei ti sono addosso ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subio dal telaio con l'ordito ed ella gli disse come fai a dirmi tamo mentre il tuo cuore non è con me già tre volte mai beffata e mai detto delle bugie e non mi dici dove risiede la tua forza ora venne che premendolo ella ogni giorno con le sue parole tormentandolo egli se ne accorò mortalmente e le aperse tutto il cuor suo e le disse non è mai passato il rasoio sulla mia testa perché sono un azireo consacrato a dio dal seno di mia madre se fossi tosato la mia forza se ne andrebbe diventerei debole e sarei come un uomo qualunque deli l'ha visto che egli le aveva aperto tutto il cuor suo mandò a chiamare i principi dei farisei e fece dir loro venite su questa volta perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore allora i principi dei filistei salirono da lei e portarono seco il denaro ed ella lo addormentò sulle sue ginocchia chiamò l'uomo fissato e gli fece tosare le sette trecce dalla testa di Sanzone così giunse a domarlo e la sua forza si partì da lui allora ella gli disse Sanzone i filistei ti sono addosso ed egli svegliatosi dal sonno disse io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui e i filistei lo presero e gli chiavarono gli occhi e lo fecero scendere a gas e lo legarono con catene di rame e gli girava la macina nella prigione intanto la capigliatura che gli aveva tosata cominciava a ricrescerli ora i principi dei filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon loro dio e per allegrarsi e dicevano il nostro dio ci ha dato nelle mani Sanzone nostro nemico e quando il popolo lo vide cominciò a lodare il suo dio e a dire il nostro dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico colui che ci devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi e nella gioia del cuor loro dicevano chiamate Sanzone che ci faccia divertire e fecero quindi uscir Sanzone dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza lo posero fra le colonne e Sanzone disse al fanciullo che lo teneva per la mano lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali posa la casa e mi appoggia ad esse or la casa era piena di uomini e di donne e tutti i principi dei filistei erano quivi e c'era sul tetto circa tremila persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sanzone faceva il buffone allora Sanzone invocò l'Eterno e disse oh Signore oh Eterno ti prego ricordati di me dammi forza per questa volta soltanto oh Dio poiché io mi vendichi d'un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi e Sanzone abbracciò le due colonne di mezzo sulle quali posava la casa si appoggiò ad esse all'una con la destra e l'altra con la sinistra e disse che io muoia assieme coi filistei si curvò con tutta la sua forza e la casa rovinò addosso ai principi e tutto il popolo che vera dentro tal che più ne uccise gli morendo che non ne aveva uccisi da vivo poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scessero e lo portarono via quindi risalirono e lo seppellirono tra Zorea e Estaol nel sepolcro di Manoah suo padre egli era stato giudice di Israele per venti anni giudici capitolo diciassettesimo or vera un uomo nella contrada montuosa di Efraim che si chiamava Mika e gli disse a sua madre i mille cento sicli d'argento che t'hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione e l'hai pronunziata in mia presenza ecco li ho io quel denaro l'avevo preso io e sua madre disse benedetto sia dell'eterno il mio figliuolo egli restituì a sua madre i mille cento sicli d'argento e sua madre disse io consacro di mano mia questo argento a pro del mio figliuolo per farne un'immagine scolpita e un'immagine di getto or dunque te li rendo e quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre questa prese duecento sicli e li diede al fonditore il quale ne fece un'immagine scolpita e un'immagine di getto che furono messe in casa di mica e quest'uomo mica ebbe una casa di dio e fece un'effod e degli idoli e consacrò uno dei suoi figliuoli che gli servì da sacerdote in quel tempo non vera re in israele ognuno faceva quel che gli pareva meglio or vera un giovane di bethlehem di giudea della famiglia di giuda il quale era levita e abitava quivi quest'uomo si partì dalla città di bethlehem di giuda per stabilirsi in un luogo che trovasse adatto e cammin facendo giunse nella contrada montuosa di ephraim alla casa di mica e mica gli chiese dove vieni quello gli rispose sono un levita di bethlehem di giudea e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto mica gli disse rimani con me e simi padre e sacerdote e ti darò dieci cicli d'argento l'anno un vestito completo e il vitto e il levita entrò egli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figlioli mica consacrò quelle vita il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa di lui e mica disse ora so che l'eterno mi farà del bene perché ho un levita come mio sacerdote giudici capitolo diciottesimo in quel tempo non vera re in israele e in quel medesimo tempo la tribù dei daniti cercava un possesso per stabilirvisi perché fino a quei giorni non le era toccato alcuna eredità fra le tribù di israele e figliuoli di dam mandarono dunque da zorea e da estao cinque uomini della loro tribù presi di fra loro tutti uomini valorosi per esplorare ed esaminare il paese e dissero loro andate a esaminare il paese quelli giunsero nella contrada montuosa di Efraim alla casa di mica e pernottarono in quel luogo come furono presso la casa di mica riconobbero la voce del giovane levita e avvicinatesi gli chiesero che t'ha condotto qua e che fai in questo luogo che hai tu qui ed egli rispose loro mica mi ha fatto questo e questo e mi stipendia ed io gli servo da sacerdote e quelli gli dissero dè consulta il dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso sarà prospero il sacerdote rispose loro andate in pace il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'eterno i cinque uomini dunque partirono giunsero all'ais e videro che il popolo il quale vi abitava viveva in sicurtà al modo dei sidoniti tranquillo e fidente poiché nel paese non c'era alcuna autorità che potesse far loro il meno motorto ed erano lontani dai sidoni e non avevano relazione con alcuno poi tornarono ai loro fratelli a Zorea e a Estahol e i fratelli chiesero loro che dite quelli risposero leviamoci e saliamo contro quella gente perché abbiamo visto il paese ed ecco è eccellente e voi ve ne state là senza dir verbo non siete pigri a muovervi per andare a prendere possesso del paese quando arriverete là troverete un popolo che se ne sta sicuro il paese è vasto e Dio ve lo ha dato nelle mani è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra e seicento uomini della famiglia dei Daniti partirono da Zorea e da Estahol muniti d'armi salirono si accamparono a Kiriagerim in Giuda perciò quel luogo che è detto Kiriagerim fu chiamato e si chiama anche oggi Mahane Dam e di là passarono nella contrada montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Micah allora i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese di Lais presero a dire ai loro fratelli sapete voi che in queste case c'è un Efod e ci sono degli idoli e un'immagine scolpita e un'immagine di getto considerate ora quel che dovete fare quelli si diressero da quella parte giunsero alla casa del giovane Levita alla casa di Micah e gli chiesero notizie del suo benestare i seicento uomini dei figlioli di Dan muniti delle loro armi si missero davanti alla porta ma i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese salirono e entrarono in casa presero l'immagine scolpita l'Efo gli idoli e l'immagine di getto mentre il sacerdote stava davanti alla porta a questi cento uomini armati e quando furono entrati in casa di Micah ed ebbero preso l'immagine scolpita l'Efo gli idoli e l'immagine di getto il sacerdote disse loro che fate quelli gli risposero taci mettiti la mano sulla bocca vieni con noi e sarai per noi un padre e un sacerdote che è meglio per te essere sacerdote in caso di un uomo solo ovvero essere sacerdote di una tribù e di una famiglia di Israele e il sacerdote si rallegrò in cuor suo prese l'Efo gli idoli l'immagine scolpita e si unì a quella gente così si rimisero in cammino mettendo innanzi a loro i bambini il bestiame e i bagagli come erano già lunghi dalla casa di Micah la gente che abitava nelle case vicine a quella di Micah si radunò e inseguì i figlioli di Dam e siccome gridava dietro ai figlioli di Dam questi rivoltisi indietro dissero a Micah che cos'hai che hai tu radunata con questa gente ed egli rispose avete portato via gli dei che m'ero fatti e il sacerdote ve ne siete e andati or che mi resta egli di più come potete dunque dirmi che hai i figlioli di Dam gli dissero fa che non so dalla tua voce dietro a noi perché degli uomini irritati potrebbero scagliarsi su voi e tu ci perderesti la tua vita e quella della tua famiglia e i figlioli di Dam continuarono il loro viaggio e Micah vedendo che essi erano più forti di lui se ne andò indietro e venne a cassa sua ed essi dopo aver preso le cose di Micah avevano fatto e il sacerdote che aveva il suo servizio giunsero a Lais a un popolo che se ne stava tranquillo e in sicurtà lo passarono a fil di spada e dettero la città alle fiamme e non ci fu alcuno che la liberasse perché erano lontani da Sidon e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente essa era nella valle che si estende verso Beth Rehob poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono e possero nome Dan dal nome di Dan loro padre che fu figliuolo di Israele ma prima il nome della città era Lais poi i figlioli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita e Jonathan figliuolo di Gershon figliuolo di Mosè e i suoi figliuoli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati così rizzarono per sé l'immagine scolpita che mica aveva fatta durante tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Shiloh Giudici capitolo diciannovesimo ora in quel tempo non vera re in Israele ed avvenne che un levita il quale dimorava nella parte più remota della contrada montuosa di Efraim si prese per concubina una donna di Bethlehem di Giudea questa sua concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Bethlehem di Giudea o vestette per lo spazio di quattro mesi suo marito si levò e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla seco egli aveva presso con sé il suo servo e due asini e salomonò in casa di suo padre e come il padre della giovane lo vide gli si fece incontro festosamente il suo suocero il padre della giovane lo trattenne ed egli rimase con lui tre giorni e mangiarono e bevero e pernottarono quivi il quarto giorno si levarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire e il padre della giovane disse al suo genero prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore poi ve ne andrete e si posero ambedù a sedere mangiarono e bevero assieme poi il padre della giovane disse al marito ti prego acconsenti a passare qui la notte il cuor tuo si rallegri ma quell'uomo si alzò per andarsene non di meno per le istanze del suocero per non tocquivi di nuovo il quinto giorno egli si levò di buon'ora per andarsene e il padre della giovane gli disse ti prego fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno e si misero a mangiare assieme e quando quell'uomo si levò per andarsene con la sua concubina e col suo servo il suocero il padre della giovane gli disse ecco il giorno volge ora sera ti prego trattienti qui questa notte vedi il giorno sta per finire per notta quivi e il cuore tuo si rallegri e domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa ma il marito non volle passare quivi la notte si levò partì e giunse di rimpetto a Jebus che è Gerusalemme con i suoi due asini sellati e con la sua concubina quando furono vicini a Jebus il giorno era molto calato e il servo disse al suo padrone vieni ti prego e dirigiamo il cammino verso questa città dei Gebusei e pernottiamo quivi il padrone gli rispose no non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri i cui abitanti non sono figlioli di Israele ma andremo fino a Ghibea e disse allora al suo servo andiamo cerchiamo di arrivare a uno di quei luoghi e pernotteremo a Ghibea o a Rama e così passarono oltre e continuarono il viaggio il sole tramontò loro come erano presso a Ghibea che appartiene a Beniamino e volsero il cammino in quella direzione per andare a pernottare a Ghibea e la vita entrò e si fermò sulla piazza della città ma nessuno li accorse in casa per passare la notte quando ecco un vecchio che tornava la sera dai campi del suo lavoro era un uomo della contrada montuosa dei Fren che abitava come forestiero in Ghibea la gente del luogo essendo beniaminita alzati gli occhi vide quel viandante sulla piazza della città e il vecchio gli disse dove vai e donde vieni e quello gli rispose siamo partiti da Bethlehem di Giudea e andiamo nella parte più remota della contrada montuosa dei Fren io sono di là ed ero andato a Bethlehem di Giudea ora mi reco alla casa dell'Eterno e non v'è alcuno che mi accolga in casa sua eppure abbiamo della paglia e del foraggio per i nostri asini e anche del pane e del vino per me per la tua serva e per il garzone che è coi tuoi servitori a noi non manca nulla e il vecchio gli disse la pace sia teco io mi incarico d'ogni tuo bisogno ma non devi passare la notte sulla piazza e così lo menò in casa sua e diede il foraggio agli asini i viandanti si lavarono i piedi e mangiarono e bevero mentre stavano rallegrandosi ecco gli uomini della città gente perversa circondare la casa e picchiare alla porta e dire al vecchio padrone di casa mena fuori quell'uomo che è entrato in casa tua che lo vogliamo conoscere ma il padrone di casa uscito fuori disse loro no fratelli miei vi prego non fate una malazione già che quest'uomo è venuto in casa mia non commettete questa infamia ecco qua la mia figliola che è vergine e la concubina di quell'uomo io ve le menerò fuori e voi servitene e fatene quel che vi pare ma non commettete contro quest'uomo una simile infamia ma quegli uomini non volero dargli ascolto allora l'uomo prese la sua concubina e la menò fuori a loro ed essi la conobbero e la abusarono di lei per tutta la notte fino al mattino poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare e quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava il suo marito e qui rimase finché fu giorno chiaro il suo marito la mattina si levò aprì la porta di casa ed uscì per continuare il suo viaggio quando ecco la donna la sua concubina giacere distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia egli le disse levati e andiamocene ma non ebbe risposta allora il marito la caricò sull'asino e partì per tornare alla sua dimora e come fu giunto a casa si muni di un coltello prese la sua concubina e la divise membro per membro in dodici pezzi che mandò per tutto il territorio di Israele di guisa che chiunque vide ciò disse una cosa simile non è mai accaduta né se mai vista da quando i figlioli di Israele salirono dal paese d'Egitto fino al dildogi prendete il fatto a cuore consigliatevi e parlate giudici capitolo ventesimo allora tutti i figlioli di Israele uscirono da Dan fino a Beershiba e al paese di Galad e la radunanza si raccolse come un solo uomo dinanzi all'Eterno a Mitzpah i capi di tutto il popolo e tutte le tribù di Israele si presentarono nella radunanza del popolo di Dio il numero di quattrocentomila fanti atti a trar la spada e i figlioli di Beniamino udirono che i capi di Israele erano saliti a Mitzpah e i figlioli di Israele dissero parlate come è stato compiuto questo delitto allora il Levita il marito della donna che era stata uccisa rispose io ero giunto con la mia concubina a Ghibea di Beniamino per passarvi la notte ma gli abitanti di Ghibea si levarono contro di me e attorniarono di notte la casa dove stavo e avevano intenzione di uccidermi violentarono la mia concubina ed ella morì io presi la mia concubina la feci in pezzi che mandai per tutto il territorio dell'eredità di Israele perché costoro han compiuto un delitto e un'infamia in Israele eccovi qui tutti o figlioli di Israele dite qui il vostro parere e che consigliate di fare tutto il popolo si levò come un solo uomo dicendo nessuno di noi tornerà alla sua tenda nessuno di noi rientrerà in cassa sua ed ora ecco quel che faremo a Ghibea la saliremo traendo a sorte chi deve cominciare prenderemo in tutte le tribù di Israele dieci uomini su cento cento su mille e mille su diecimila i quali andranno a cercare dei viveri per il popolo affinché al loro ritorno Ghibea di Beniamino sia trattata secondo tutta l'infamia che ha commesso in Israele così tutti gli uomini di Israele si radunarono contro quella città uniti come fossero un sol uomo e le tribù di Israele mandarono degli uomini in tutte le famiglie di Beniamino a dire che delitto è questo che è stato commesso fra voi or dunque consegnatici quegli uomini quelli scelerati di Ghibea perché li mettiamo a morte e togliam via il male da Israele ma i figlioli di Beniamino non vollero dare ascolto alla voce dei loro fratelli i figlioli di Israele e i figlioli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Ghibea per andare a combattere contro i figlioli di Israele il censimento che in quel giorno si fece dei figlioli di Beniamino usciti dalla città fu di 26.000 uomini atti a trar la spada senza contare gli abitanti di Ghibea che ascendevano al numero di 700 uomini scelti fra tutta quella gente c'erano 700 uomini scelti che erano mancini tutti costoro poteano lanciare una pietra con la fionda a un cappello senza fallire il colpo si fece pure il censimento degli uomini figlioli di Israele non compresi quelli di Beniamino ed erano in numero di 400.000 uomini atti a trar la spada tutta gente di guerra e i figlioli di Israele si mossero salirono a Beto e consultarono il Dio dicendo chi di noi salirà il primo a combattere contro i figlioli di Beniamino e l'Eterno rispose Giuda salirà il primo e l'indomani mattina i figlioli di Israele si mossero in marcia e si accamparono presso Ghibea e gli uomini di Israele uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di loro presso Ghibea allora i figlioli di Beniamino si avanzarono da Ghibea e in quel giorno stesero morti al suolo 22.000 uomini di Israele il popolo gli uomini di Israele ripresero animo si disposero di nuovo in ordine di battaglia nel luogo dove si erano disposti il primo giorno e i figlioli di Israele salirono e piansero davanti all'Eterno fino alla sera e consultarono l'Eterno dicendo debbo io seguitare a combattere contro i figlioli di Beniamino mio fratello e l'Eterno rispose salite contro di loro i figlioli di Israele vennero a battaglia con i figlioli di Beniamino una seconda volta e i beniaminiti una seconda volta uscirono da Ghibea contro di loro e stessero morti al suolo altri 18.000 uomini dei figlioli di Israele tutti atti a trarre la spada allora tutti i figlioli di Israele e tutto il popolo salirono a Beto e piansero e rimasero quivi davanti all'Eterno digiunarono quel dì fino alla sera e offrirono locausti e sacrifici di azioni di grazia davanti all'Eterno e i figlioli di Israele consultarono l'Eterno l'arca del patto di Dio in quel tempo era quivi e Fineas figliolo di Leazar figliolo di Aronne ne faceva allora il servizio e dissero debbo io seguitare ancora combattere contro i figlioli di Beniamino mio fratello o debbo cessare e l'Eterno rispose salite perché domani ve li darò nelle mani e Israele pose un'imboscata tutta intorno a Ghibea i figlioli di Israele salirono per la terza volta contro i figlioli di Beniamino e si dispossero in ordine di battaglia presso Ghibea come le altre volte e i figlioli di Beniamino avendo fatto una sortita contro il popolo si lasciarono a tirare lungi dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere come le altre volte alcuni del popolo di Israele per le strade delle quali una sale a Beto e l'altra a Ghibea per la campagna e ne uccisero circa trenta allora i figlioli di Beniamino dissero ecco li sconfitti davanti a noi come la prima volta ma i figlioli di Israele dissero fuggiamo e attiriamoli lungi dalla città sulle strade maestre e tutti gli uomini di Israele abbandonarono la loro posizione e si disposero in ordine di battaglia a Baal Tamar e l'imboscata di Israele si lanciò fuori dal luogo dove si trovava da Mar Ghibea diecimila uomini scelti in tutto Israele giunsero a Ghibea il combattimento fu aspro e Beniaminiti non si avvedevano del disastro che stava per Corpilli e l'Eterno sconfisse Beniamino davanti a Israele e i figlioli di Israele uccisero quel giorno venticinquemila e cento uomini di Beniamino tutti atti a trarre la spada i figlioli di Beniamino videro che gli israeliti erano battuti quelli infatti avevano ceduto terreno a Beniamino perché confidavano nell'imboscata che avevano posto a Ghibea e quelli dell'imboscata si gettarono prontamente su Ghibea e avanzati si passarono a fil di spada l'intera città or vera un segnale convenuto fra gli uomini di Israele e quelli dell'imboscata questi dovevano far salire dalla città una gran fumata gli uomini di Israele avevano dunque voltate le spalle nel combattimento a quei di Beniamino e avevano cominciato a colpire e a uccidere circa 30 uomini di Israele e si dicevano per certo ecco li sconfitti davanti a noi come la prima battaglia ma quando il segnale la colonna di fumo cominciò ad alzarsi dalla città quei di Beniamino si voltarono indietro ed ecco che tutta la città saliva in fiamme verso il cielo allora gli uomini di Israele fecero fronte indietro e quei di Beniamino furono spaventati vedendo il disastro che piombava loro addosso e voltarono le spalle davanti agli uomini di Israele e presero la via del deserto ma gli assalitori si misero alle loro calcagna e estendevano morti sul posto quelli che uscivano dalla città circondarono i beniaminiti li inseguirono furono loro sopra dovunque si fermavano fin di rimpetto a Ghibea dal lato del sollevante caddero dei beniaminiti diciotto mila uomini tutta gente di valore i beniaminiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto in direzione del masso di Rimon e gli israeliti ne mieterono per le strade cinquemila li inseguirono da presto fino a Gideon e ne colpirono altri duemila così il numero totale dei beniaminiti che caddero quel giorno fu di venticinquemila atti a trarre la spada tutta gente di valore 600 uomini che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto in direzione del masso di Rimon rimasero al masso di Rimon quattro mesi poi gli israeliti tornarono contro i figlioli di beniamino li sconfissero mettendoli a fil di spada dagli abitanti delle città al bestiame e a tutto quel che capitava loro e dentro alle fiamme tutte le città che trovarono giudici capitolo ventunesimo or gli uomini di israele avevano giurato a mispa dicendo nessuno di noi darà la sua figliola e moglie a un beniaminita il popolo venne a beto dove rimase fino alla sera in presenza di dio e alzando la voce pianse dirottamente e disse o eterno o iddio di israele perché mai è avvenuto questo in israele che oggi ci sia in israele una tribù di meno il giorno seguente il popolo si levò di buon mattino costruì qui un altare e offerse olocausti e sacrifici di azioni di grazie e i figlioli di israele dissero chi è fra tutte le tribù di israele che non si è salito alla radunanza davanti all'eterno poiché avevano fatto questo giuramento solenne relativamente a chi non fosse salito in presenza dell'eterno a mitzpa quel tale dovrà essere messo a morte i figlioli di israele si pentivano di quel che avevano fatto a beniamino loro fratello e dicevano oggi è stata soppressa una tribù di israele come faremo a procurar delle donne e superstiti giacché abbiamo giurato nel nome dell'eterno di non dar loro in moglie alcuna delle nostre figliole dissero dunque qual è fra le tribù di israele quella che non è salita in presenza dell'eterno a mitzpa ed ecco che nessuno di Jabez di Galahad era venuto al campo alla radunanza poiché aveva fatto il censimento del popolo e si trovò che qui vi non vera alcuno degli abitanti di Jabez in Galahad allora la radunanza mandò là dodici mila uomini dei più valorosi e diede loro quest'ordine andate e mettete a fil di spada gli abitanti di Jabez in Galahad con le donne e i bambini e farete questo voterete lo sterminio ogni maschio e ogni donna che abbia avuto relazioni carnali con un uomo e quelli trovarono fra gli abitanti di Jabez in Galahad quattrocento fanciulle che non avevano avuto relazioni carnali con l'uomo e le menarono al campo a Scilo che è nel paese di Canaan tutta la radunanza inviò dei messi per parlare ai figlioli di Beniamino che erano al masso di Rimon e per proclamare loro la pace allora i beniaminiti tornarono e furono loro date le donne a cui era stata risparmiata la vita fra le donne di Jabez in Galahad ma non ve ne fu abbastanza per tutti il popolo dunque si pentiva di quel che aveva fatto a Beniamino perché l'Eterno aveva aperto una breccia fra la tribù di Israele e gli anziani della radunanza dissero come faremo a procurare delle donne superstiti giacché le donne beniaminite sono state distrutte poi dissero quelli che sono scampati posseggano ciò che apparteneva a Beniamino affinché non sia soppressa una tribù in Israele ma noi non possiamo dar loro delle nostre figliuole in moglie poiché figliuole di Israele avevano giurato dicendo maledetto chi darà una moglie a Beniamino e dissero ecco ogni anno si fa una festa in onore dell'Eterno a Scilo che è al nord di Beto e a oriente della strada che sale da Beto a Shichem e al mezzogiorno di Lebna e dissero diedero quest'ordine ai figliuoli di Beniamino andate fate un'imboscata nelle vigne state attenti e quando le figliuole di Scilo usciranno per danzare in coro sbuccherete dalle vigne rapirete ciascuno una delle figliuole di Scilo per farvene vostra moglie e ve ne andrete nel paese di Beniamino e quando i loro padri o i loro fratelli verranno a querellarsi con noi noi diremo loro daticele per favore giacché in questa guerra non abbiamo preso una donna per uno ne siete voi che avete dato loro nel qual caso voi sareste colpevoli e i figliuoli di Beniamino fecero in quel modo si presero delle mogli secondo il loro numero fra le danzatrici le rapirono poi partirono e tornarono nella loro eredità riedificando le città e vi stabilirono la loro dimora in quel medesimo tempo i figliuoli di Israele se ne andarono di là ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia e ognuno tornò di là nella sua eredità in quel tempo non vera re in Israele e ognuno faceva quel che gli pareva meglio